Ciao a tutte ragazze, come apertura di questo video volevo farvi vedere prima questa bellissima candela che mi è arrivata dalla My Shirley Kettle, me l'hanno gentilmente offerta loro è una candela bellissima e all'interno ha un gioiello svarosco in argento la profumazione è stata immovita vorrei veramente che foste qui per sentire il dolce profumo che è male si sente tantissimo già da fuori la menta e il lime tanto adesso ve la faccio vedere bene anche guardate che bella la confezione, è veramente bellissimo il packaging è buonissimo a proposito se volete avere il 10% di sconto mettete tranquillamente il mio codice che è CARLETTA10 è veramente buono, buono, buono adesso non penso l'ora di sentire anche la profumazione una volta che è accesa ci sono all'interno delle istruzioni si sente veramente tantissimo il profumo a me è arrivata ieri e stanotte come mi sono svegliata si sentiva tanto la profumazione adesso andremo ad accendere assieme guardate che bella che c'è guardate che bella che c'è è veramente bellissimo fatemi sapere se conoscevate anche questa marca qua la Maggioli Candle io l'avevo già sentita e non vedeva l'ora di provarla infatti sono troppo contenta di poter collaborare con loro buonissimo veramente allora ragazzi io adesso vi lascio subito al video dello slime e spero tanto che vi piaccia voi mi farete sapere se vi piace soprattutto se volete altri video di slime è la prima volta che lo realizzo quindi ditemi un pochettino se è venuto abbastanza bene ok beh vi lascio al video e buon relax va bene Ciao a tutti ragazzi, allora questo è il primo video in cui vi mostro come realizzo uno slime, è un video che mi è stato richiesto, sono contenta di potervi accontentare appunto allora vi faccio vedere subito tutto il materiale che occorre o comunque che ho comprato per fare appunto gli slime le prime cose che vi faccio vedere sono questa polvere glitter che come vedete sembra proprio una sorta di sabbia perché ho provato a farlo una volta con questi che sono proprio dei glitter come vedete tutti colorati e purtroppo non dà lo stesso effetto, diciamo che questi glitter poi si appiccicano molto sulla mano e quindi alla fine diventa abbastanza complicato e poi ho preso un'altra polvere glitter sempre sui toni comunque del rosa come vedete altre cose che ho preso, sono troppo contenta di questa qui, guardate è una colla glitter, deve essere una figata, non vedo l'ora di usarla con voi deve essere veramente veramente bello e poi oltre a questo ho voluto prendere anche le decorazioni in polistirolo eccole qua queste non vedo l'ora di utilizzarle perché sono troppo 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 curiosa allora io farò tutto in questa scatolina un recipiente insomma questo qui e ho comprato anche questo volevo farvi vedere che sono delle stelline come vedete sono venute veramente poco, 1,50 euro e queste secondo me per decorare sono bellissime ecco l'ora di utilizzarle allora oltre a questo ho preso anche dei coloranti alimentari eccoli qua dei coloranti alimentari per i dolci che io ne avevo due diciamo di questi due colori e per gli slime servono veramente poche gocce poi ho comprato la soluzione salina che la potete acquistare in parafermaggio tranquillamente poi ho preso la colla liquida ho preso quella trasparente ma ho potuto usare anche la cocoina mi sembra che si chiami così poi ho preso il bicarbonato eccolo qua bicarbonato e poi per altri tipi di slime ho preso anche la schiuma da barba quindi queste sono le cose che utilizzerò e tutto mischerò con questo cucchiaino qua allora iniziamo subito io spero che inquadri bene comunque la telecamera e riusciate soprattutto a sentirmi bene nel mentre che faccio tutto insomma allora la prima cosa da fare io utilizzerò la mia colla questa coi glitter perché sono veramente curiosa di questa colla coi glitter cioè l'ho comprata apposta perché ero curiosissima allora eccoci qua è già figa questa non so se riuscite a vederla bene guardate è figata è un colore stupendo ok ok allora metto la colla glitter adesso proviamo poi allora volevo provare a farlo questo molto molto semplice quindi adesso adesso vorrei vedere se aggiungendo un pochettino di bicarbonato come vedete come vedete che sto mettendo pochissimo è gelatinosa però è anche un po' liquida caspita caspita guardate è diventata liquidissima non so se è diventata così liquida per via del bicarbonato spero di no che non sia per quello perché perché io ho letto comunque che andava andava fatto tranquillamente vediamo subito allora è utile di aggiungere la colla la colla normale aggiungo un po' di colla normale come vedete come vedete il colore è bellissimo eccoci qua allora dopo questo passaggio io metterò un po' della soluzione salina un po' della soluzione salina ecco qui ecco qui e con la soluzione salina salina inizierà vedete a diventare molto slimoso il colore è stupendo il colore è stupendo il colore è stupendo volevo farvelo vedere bene ma mi sembra che è fatto ecco qui ecco qui per la soluzione salina Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.